Si accende il Natale a Chieti, come sempre sorprendente e con un'attenzione particolare rivolta a bambini e famiglie. Sarà un Natale di festa, un Natale dedicato alla famiglia, un Natale per la solidarietà e per la beneficenza. Le disponibilità economiche non sono infinite, soprattutto in questo momento di ristrettezza e di risanamento per l'ente. Pertanto, sempre come fatto in questi anni, ancora di più in questa occasione, in questo Natale, abbiamo messo in campo una sinergia importantissima con l'ANIAC di Tommaso Rutolo, che è stata veramente un'associazione preziosa per l'amministrazione comunale. Parimenti, come sempre, abbiamo trovato un virtuosismo amministrativo ed economico nel ricorrere nelle sponsorizzazioni e nelle sinergie istituzionali anche con altri enti. Eventi da non perdere. Eventi da non perdere sono tanti. In particolar modo avremo un artista di carattere internazionale che verrà a suonare in piazza un'arpa laser. Una bellissima e suggestiva rappresentazione sia di carattere artistico musicale sia scenografica, perché appunto illuminerà la piazza con quest'arpa laser e suonerà live davanti alla cittadinanza. Ma soprattutto siamo felici di riuscire ad addobbare al meglio il nostro centro storico, la parte bassa dello scalo, insomma abbiamo fatto del nostro meglio per creare quelle condizioni, soprattutto quell'atmosfera natalizia, per promuovere e soprattutto per incrementare, incentivare gli acquisti in città. Grazie. Grazie.